Ci si è mai domandati che fine fanno i piccoli asteroidi entrati in collisione con la Terra? A Venezia se lo sono chiesto una coppia di artigiani. Mauro ed Emilia, marito e moglie, hanno avuto un'idea davvero senza predecessori o almeno al momento non se ne conoscono di equivalenti. Il progetto tra l'ambizioso e lo stravagante è di quelli per restare in argomento da extraterrestre, catturare la luce di queste stelle cadenti e rinchiuderla sotto forma di gemma. Cose vecchie anche di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Unici al mondo per il fatto della produzione di mettere la meteorite tra una fogliolina d'oro o di argento o di qualsiasi altro prezioso e il vetro. La peculiarità è che nello studio di questi meteoriti coinvolti anche i professionisti di questi impatti cosmici con un'equipe di geologi e astronomi. Questo brand è collegato a dei monitoratori che guardano, scrutano lo spazio giorno e notte. La terra viene colpita tante volte al giorno, da corpi celesti, sassi, chiamiamoli un po' come vogliamo. Tutto quello che non cade in mare e arriva nella terra, da loro viene più o meno calcolata la traiettoria, il più vicino si reca, la prende e dopo comincia un'altra fila molto lunga per la classificazione. Artigiani travolti tuttavia dalla profonda crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19 e che si protrae dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Come si è potuto resistere? Come si è potuto resistere? Stringendo tanto i denti, facendo tanta fatica, tenaccia e cercando di tenere dura. Adesso speriamo che le cose si muovano un po' di più perché è stata veramente dura ed è ancora dura adesso perché, come ben sai, ci sono sì un po' di turisti. La speranza è che questi piccoli pezzi di cielo ancestrali possano tornare a brillare di nuovo su Venezia, portando nuova luce legata alla riposta speranza di una veloce ripresa economica. Resistiamo, resisteremo. Il veneziano è tenace.